Il Super Green Pass da oggi in realtà fino al 15 gennaio anche in zona bianca sarà necessario il certificato verde rafforzato per accedere a cinema, teatri, stadi e ristoranti al chiuso. Il Super Green Pass era già necessario in zona gialla e arancione a partire dal 29 novembre, mentre in zona rossa le attività rimarranno chiuse. Sostanzialmente la novità riguarda soprattutto i non vaccinati. Solamente chi ha ricevuto la propria dosi o è guarito dal covid potrà recarsi nei luoghi del divertimento e della cultura, mentre un tampone antigenico o molecolare con esito negativo sarà ancora sufficiente per recarsi al lavoro e utilizzare i mezzi pubblici. Fatta eccezione per coloro i quali sono obbligati al vaccino dal DL 172 in vigore dal 27 novembre, ovvero personale scolastico, sanitario e del soccorso pubblico e anche militari e polizia. Negli ultimi giorni si è registrato un vertiginoso aumento di prime dosi inoculate e in base alla circolare del Ministero degli Interni del 29 novembre i controlli saranno rafforzati. Nei ristoranti e negli esercizi commerciali saranno Polizia Municipale e Guardia di Finanza a verificare che tutto sia in regola, mentre sui mezzi pubblici saliranno Carabinieri e Polizia. Le sanzioni, che non riguardano solo chi è sprovvisto di Green Pass, ma anche chi ha omesso il controllo, vanno dai 400 ai 1000 euro. Inoltre, chi falsifica un certificato rischia di incorrere nell'articolo 482 del codice di procedura penale che prevede per falsità materiale dei quattro mesi ai due anni di reclusione. Chi utilizza un Green Pass falsificato da altri potrebbe incappare nel reato di atto falso, articolo 489, che prevede la reclusione da due mesi a due anni. Chi utilizza un Green Pass di un'altra persona potrebbe essere denunciato per sostituzione di persona, che in base all'articolo 494 prevede fino a un anno di reclusione. Ingannare il personale sanitario invece per il codice penale potrebbe essere truffa, tentata se si viene scoperti, ai danni dello Stato. E gli amministratori locali, come al solito, possono decidere misure ancora più stringenti, ma non allentare quelle imposte da Roma. L'inaspettata virulenza della quarta ondata sta portando alcuni sindaci a correre ai ripari con l'obiettivo di rallentare l'avanzata del virus e di salvare i consumi delle festività natalizie. In Abruzzo da oggi è obbligatorio l'utilizzo della mascherina anche all'aperto sul territorio comunale di Chieti, mentre a Teramo l'obbligo si estende solo al centro storico. Inoltre a breve la firma sull'ordinanza che imporrà l'uso della mascherina all'aperto anche nel centro di Pescara, che probabilmente sarà in vigore già da domani. Sabato ho incontrato il dottor Parruti, il dottor Polidoro e il direttore generale della ASL. Con loro abbiamo ragionato sulla necessità di emettere ordinanza che obblighi chiunque frequenta la zona centrale anche all'aperto di portare la mascherina. Questa è l'indicazione che sarà contenuta nell'ordinanza. Ovviamente saranno indicate le strade dove questo dovrà avvenire, ma le strade sono quelle della movida, quelle dello shopping, le zone pedonali, tutte le zone dove c'è la potenzialità di una concentrazione di persone maggiore rispetto alle altre zone di Pescara. Per le altre zone vige il provvedimento nazionale. Le ordinanze comunali di Chieti e Teramo e probabilmente anche quella di Pescara saranno in vigore fino al 31 dicembre.